Per noi avere una chiara lettura della realtà aggiornata in tempi anche ragionevolmente brevi è sicuramente un grande strumento per aiutarci anche a sostenere nella maniera corretta l'evoluzione del sistema economico e delle imprese che rappresentiamo. Faremo di tutto per sostenere questo percorso che ripeto è fondamentale anche per le nostre attività di rappresentanza. I dati di contesto economico sicuramente, ma ci sono ovviamente anche dati che riguardano proprio la capacità del sistema economico stesso e quindi delle nostre imprese di capire in che termini innova, quanto investe, quanto fa in ricerca. Noi sappiamo che siamo davanti a una sfida e siamo in mezzo a una sfida che è quella del 4.0 dove le competenze diventano l'elemento chiave della crescita di un'impresa. Quindi sicuramente i temi della formazione, i temi che sono legati a come noi siamo in grado di qualificare e riqualificare le nostre risorse umane sono strategici. Il capitale umano diventa l'elemento di grande competitività che le imprese possono giocare nella sfida della competitività globale.